Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte. In primo piano la ricorrenza del giorno della memoria, tutte le celebrazioni in corso e allora noi diamo subito la linea alla redazione di Torino e a Roberto Monteriso. Come ogni anno il 27 di gennaio è la giornata della memoria, tante le iniziative che si svolgono a Torino e provincia per non dimenticare il servizio. Ricorre oggi, venerdì 27 gennaio, la giornata della memoria, iniziativa istituita dalla Nazione Unite per ricordare le vittime dell'olocausto. La tragedia della Shoah, dunque, le immagini forti dei lager, la morte di ebrei, oppositori politici, zingari, omosessuali, diventano spunto per riflessioni che arrivano fino all'attualità. Così la giornata di oggi è scandita da una serie di momenti istituzionali. Si è partita alle 9 al cimitero monumentale di Corso Novara a Torino con la cerimonia in ricordo delle vittime dell'olocausto, poi in Sala Rossa a Palazzo Civico da celebrazione ufficiale, mentre alle 20.30 al Teatro Reggio, in Piazza Castello, il tradizionale concerto del giorno della memoria. L'associazione Nessun Uomo è un'isola stamane ha proposto la fiaccolata dalla lapide dell'ANED di fronte all'attuale binario 17, ingresso in via Sacchi da Porta Nuova, fino alle 9. Lungo il percorso, che è terminato all'interno della sezione dei condannati a morte dell'ex carcere, sono stati ricordati i deportati noti e meno noti, bambini ebrei imprigionati, donne deportate, il beato Giuseppe Girotti e suor Giuseppina De Muro. Per quanto riguarda le mostre visitabile da oggi fino al 9 marzo nella Sala del Novecento di Palazzo San Daniele, in via del Carmine, la mostra Ricordi Futuri 2.0, organizzata dal Museo della Resistenza sulla memoria della Shoah e sulla sua rielaborazione nell'arte contemporanea. Interviste, documenti d'epoca, filmati, fotografie e oggetti originali s'affiancano nel percorso a opere d'arte contemporanea sulla Shoah. Al Circolo dei Lettori, stasera alle 21, parole e voci di Annalie Marie Frank, reading con Matteo Corradini, al Centro Regis, sabato 28 alle 17, deportazione e resistenza. Proseguiamo parlando del giorno della memoria, restituendo la linea ad Alessandria. Sì, perché anche la città di Alessandria ha reso maggio stamane al giorno della memoria, giorno dedicato alle vittime della Shoah. La cerimonia è iniziata davanti alla sinagoga, si è conclusa nel piazzale degli ebrei, deportati nei campi di concentramento e ci saranno altre iniziative nel corso di tutta la giornata. Ha seguito per noi questa prima parte Franco Capone. Un centinaio di studenti, tanti cittadini, autorità e associazioni con lavari e bandiere hanno preso parte questa mattina alla cerimonia in ricordo delle vittime della Shoah. L'impegno e la presenza delle scuole secondarie di primo grado di Alessandria per il giorno della memoria vuole essere il passaggio del testimone alla storia che vuole e deve essere sempre presente anche negli studenti. Ebbè certamente, questa cosa è da assolutamente ricordare, come le altre persone l'hanno trasferito a noi anch'io un giorno quando avrò una famiglia lo trasferò ai miei figli. Cercherò di parlare agli altri, a quelli che non ne sanno, che cos'è il giorno della memoria e cos'è la Shoah. La manifestazione è iniziata in piazzetta della Liga con gli interventi del prefetto Romino D'Atafuri e del sindaco dei rappresentanti della selezione culturale di storia. Lei, oltre ad essere sindaco e anche insegnante, come recepiscono i giovani ragazzi di studenti oggi questa grande giornata di ricordo? Io credo che i ragazzi non abbiano bisogno di formulette, non abbiano bisogno di raccontini, hanno bisogno anche di avere strumenti di analisi critica di ciò che è stato nel contesto storico, ma anche di quegli strumenti che consentano loro di riconoscere il male, perché purtroppo il male è ancora presente nella storia e nella vicenda dell'uomo e quindi io credo che la scuola debba incaricarsi soprattutto di fare quello. Poi davanti alla sinagoga dove è stata deposta una corona di alloro alla lapide che ricorda le vittime della Shoah. Ho avuto molti parenti, tra cui il nonno, ma anche tanti altri che sono morti nei campi di concentramento, genitori che sono scappati in Svizzera per non andare anche loro a finire nello stesso modo e quindi è una cosa che col passare degli anni, cioè invecchiando io, sento sempre di più come un qualcosa di mio, come se l'avessi vissuto io, che non l'ho per fortuna vissuta. La cerimonia è poi proseguita con la marcia dei partecipanti al piazzale dei deportati, dove è stato acceso il bracere erotivo, in memoria di quando in questo carro ferroviario, a perenne ricordo, furono trasportati nei campi di concentramento. Migliaia e migliaia di persone furono uccise. Nella pomeriggio sarà deposta una corona di allora al monumento situato in piazza Mafalda di Savoia, che ricorda il sacrificio di tante donne ed il concerto che si terrà al conservatorio Vivaldi alle 17.30. Siamo alla pagina occupazionale che porta buone notizie per i lavoratori della Cementir di Arquata Scrivia. Sentiamo. Fumata bianca per i 23 lavoratori della Cementir di Arquata Scrivia a rischio licenziamento. Dopo nove giorni di sciopero e di assemblea nei locali dello stabilimento alessandrino, si è raggiunto l'accordo tra le parti. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri dalla prefettura. Il tavolo è stato convocato dal prefetto di Alessandria, Romeil Datafuri, dove si sono incontrati i rappresentanti dell'azienda, quelli di Kociv e i sindacati CGL Cisle Will. La ricollocazione dei 23 esuberi vedrà passare 10 operai nella controllata Betontir. 8 andranno al cantiere di Moriassi e 2 al cantiere di Castagnola. Gli altri 5 lavoratori verranno ricollocati entro il prossimo 30 settembre, a cura di Kociv, prioritariamente presso il consorzio stesso, o in società subappaltatrici nell'ambito dei lavori del terzo valico. La soluzione, dunque, dopo giorni di sit-in davanti e all'interno del cortile dello stabilimento arquatese, ha soddisfatto tutti. In primis i sindacati, che hanno sentito con le loro orecchie tutto l'affetto dei lavoratori, i quali in assemblea li hanno sommersi di applausi per come si sono prodigati a sostegno di tutti gli operai. In questi giorni di difficile trattativa, anche i politici e i parlamentari del territorio si erano mossi per far sentire la propria vicinanza ai dipendenti cementir, recandosi sul posto e impegnandosi affinché questa vicenda avesse un lieto fine. E in questo caso, l'Unione ha fatto la forza. Infondata l'accusa di truffa presentata da Giorgio Veltroni, l'imprenditore di Arezzo che nel 2010 acquisì l'Alessandria Calcio nei confronti dell'allora sindaco di Alessandria Piercarlo Fabio e di altre due persone archiviati gli atti. Sentiamo Emma Camagna. L'ex sindaco Piercarlo Fabio, l'allora presidente AMAG e il suo uomo di fiducia Lorenzo Repetto, l'architetto Giovanni Rotoli, non sono responsabili di truffa all'imprenditore aretino Giorgio Veltroni che all'epoca dei fatti, 2010, acquisì l'Alessandria Calcio. Fu lui a querelare le tre persone. Disse di essere stato contattato dal sindaco il quale gli aveva promesso che se avesse salvato l'Alessandria in grave crisi finanziaria, così da non poterseneppur iscrivere al campionato 2010-2011, avrebbe in seguito ottenuto dall'ente pubblico grossi appalti inerenti alla nuova area sportiva in città e in particolare la costruzione e realizzazione del nuovo stadio sportivo. Me lo riferì alla presenza di Repetto e Rotoli, ma non mantenni patti, anche se io fossi determinato ad acquisire la società solo se mi fossero stati assegnati quei lavori, fece presente Veltroni. Le indagini della procura accertarono che i tre si erano prodigati per far rilevare alla società l'imprenditore di Arezzo, senza nascondere che i progetti di ricostruzione dello stadio dovevano ancora essere approvati dall'amministrazione comunale e il commercialista dell'imprenditore gli aveva sconsigliato di concludere l'operazione di acquisto della società di calcio. Al momento inoltre il progetto non rientrava nelle priorità del Comune. I progetti non ebbero seguito per le intervenute note difficoltà finanziarie del Comune. Il PM titolare dell'inchiesta, ritenendo infondata l'accusa mossa agli indagati, chiese al GIP di archivare gli atti. Veltroni fece opposizione, ma il GIP Tiziana Belgrano l'ha respinta archiviando il caso. A Novi Ligure il Consiglio Comunale si è concentrato sul piano delle alienazioni immobiliari, un modo per dare respiro alle case pubbliche. Oggetto di discussione la ex cavallerizza, per la quale ci sarà tempo fino al 23 marzo, alle 12, per presentare le offerte. Nel corso del Consiglio è stato approvato come saranno accettate solo offerte migliorative del prezzo di alienazione stabilito dal Comune, ovvero 332 mila euro, mentre la Commissione che le valuterà non dovrà essere composta da persone coinvolti in una qualsiasi fase del procedimento, comprendendo in questo anche i dipendenti comunali. Le modifiche sono state approvate all'unanimità dai consiglieri comunali presenti, compresi quelli di opposizione. Il bando di alienazione prevede che il progetto debba contemplare soluzioni attente alle problematiche di impatto ambientale e urbanistico. Torniamo a parlare di cronaca e parliamo di un attentato in stile mafioso organizzato per recuperare un credito. Lo attuarono a maggio del 2016 due calabresi, vittima a un imprenditore alessandrino che però sfuggì all'anguato. Emma Camagna. Ho sparato tenendo il viso girato per non vedere, ma non per uccidere. Si voleva solo dare una lezione a quell'uomo perché pagasse il debito. Abbiamo agito di comune accordo. È la tesi di Vittorio Giacobbe, 28 anni, calabrese, abitante nel Bresciano, come pure il complice. Vito Sorrentino, di 39, accusati di tentato omicidio e tentato estorsione. Vittima l'imprenditore Francesco Zaffarana, 50 anni, alessandrino, occupato in Praschetta, scampato a maggio del 2016 a quattro colpi di pistola, conficcatesi nella portiera e nei parafanghi della propria auto. Un proiettile si fermò a due centimetri dall'arteria femorale che, se raggiunta, ne avrebbe causato la sua morte. I due hanno agito per recuperare, hanno detto, un credito di 150.000 euro che l'imprenditore non voleva onorare. A giorni per loro processi inabbreviato. Il PM Marcella Bosco ha vagliato tutti gli elementi rafforzandosi nella convinzione che si è trattato di tentato omicidio quando il proprio perito ha accertato i rischi corsi dalla vittima all'atto della sparatoria. avvenne il 9 maggio 2016 sulla salita del cavalcavia di Spinetta. I due in moto affiancarono l'auto dell'imprenditore. Giacobbe fece fuoco, ma facendo inversione per scappare, Sorrentino si volò, furono costretti a fuggire a piedi tra i campi, vennero poi arrestati. Il credito vantato riguardava una serie di lavori commissionati dal fratello di Sorrentino in un cantiere del centro Italia. Forse l'imprenditore Alessandrino non era in grado di saldarlo perché la sua società a quell'epoca era fallita. La linea va di nuovo alla redazione di Torino. Rieccoci per parlare di scuola perché l'Università di Torino ha presentato il bilancio di 81 progetti di ricerca finanziari con oltre 14 milioni di euro nell'ambito della convenzione con la Compagnia di San Paolo 2011-2012. Andiamo a sentire che cosa è emerso. 1.352 persone coinvolte, tra cui 613 donne e 468 giovani ricercatori, tra segnisti e dottorandi. Una ricaduta di 1.294 pubblicazioni scientifiche, 1.507 partecipazioni a convegni, 89 progetti competitivi vinti, 61 brevetti registrati, 16 collaborazioni con le industrie. Sono solo alcuni dei numeri dei progetti di ricerca presentati dall'Università di Torino dal Rettore Gian Mario Aiani. Un'altra sessantina di progetti fanno parte della convenzione 2013-2015 mentre in corso il bando di valutazione per il 2016-2018. Dietro la svolta ITEC c'è la regia della Compagnia di San Paolo che si è alleata con MetroWeb per traghettare verso il futuro gli studenti, delle elementari e delle medie e formare la prima generazione di cittadini 2.0. Il piano, che vale almeno 10 milioni di euro, punta a trasformare Torino nel laboratorio europeo. non significa banalmente sostituire le lavagne e i gessetti con i tablet ma ripensare le strategie educative. L'idea è portare il Wi-Fi in tutte le classi che saranno connesse alla banda ultralarga grazie alla fibra ottica. A partire da settembre, almeno 60 istituti della città e della prima cintura potranno mandare in soffitta i vecchi modem per viaggiare a un gigabyte, al secondo grazie a un patto tra pubblico e privato. L'iniziativa era di più di 80 progetti divisi nelle tre grandi aree tematiche, le scienze della vita, le scienze sociali ed umanistiche e le scienze fisiche e ingegneristiche. In ciascuno di questi ambiti sono stati quindi realizzati questi progetti. I risultati che vengono presentati riassumono un pochino quanto è stato realizzato in questi anni. Ed ora la politica perché il gruppo regionale di Forza Italia si scaglia contro una legge sul consumo del suolo, una legge che ritengono insostenibile per i comuni che determinerà la paralisi urbanistica e un disagio economico e sociale anche per i cittadini. Andiamo a sentire come. Dopo una riforma sanitaria che penalizza cittadini e territori, un piano rifiuti che danneggia i piccoli comuni. Ora la giunta regionale si appresta ad approvare una nuova legge sul consumo del suolo che creerà grandi disagi economici e sociali e la paralisi urbanistica dell'intero Piemonte. Lo dichiarano i componenti del gruppo consigliare regionale di Forza Italia intenzionati a fermare l'iter di un testo di legge che si è approvato, dicono, causerà grandi difficoltà per i comuni e i piemontesi. I consiglieri fanno riferimento. Un testo di legge è già sottoposto alla Commissione Tecnica Urbanistica lo scorso 22 dicembre e che in questi giorni si prepara a compiere il suo iter attuativo. Il disegno di legge proposto dalla giunta entra a gamba tesa sulla pianificazione e autonomia dei singoli comuni e modifica il sistema di pianificazione piemontese oggi basato essenzialmente sui piani regolatori dividendo il territorio regionale in ambiti e subambiti definiti dalla giunta e introducendo una pianificazione cosiddetta due piani uno di tipo strutturale e l'altro operativo. Questo significa che, ove il testo dovesse essere approvato, tutti i comuni piemontesi non solo dovranno rifare il piano regolatore anche se appena approvato ma dovranno farlo suddividendolo in un piano strutturale che dovrà pianificare l'adeguamento al PPR e l'applicazione dei nuovi limiti al consumo del suolo e uno operativo che disciplina l'attuazione del precedente. Le ragioni della contrarietà al DDL le spiega il consigliere regionale di Forza Italia Diego Sozzani. Questa legge poi dopodiché annulla le autonomie locali perché prevede anche delle possibilità di rinfacimento dei piani regolatori con i costi ovviamente a carico dei comuni secondo una pianificazione una copianificazione imposta però dalla regione non voluta secondo le autonomie del titolo quinto per la quale noi ci siamo battuti in questi vent'anni piuttosto che in modelli di federalismo urbanistico locale che verranno meno con l'approvazione di questa legge. E da Torino è davvero tutto restituisco la linea ad Alessandra Della Ca. E noi vi parliamo delle molte realtà cittadine e istituzionali impegnate a dare il proprio sostegno alle popolazioni terremotate del centro Italia tra queste il comune di Novi Ligure che ha prolungato il termine per la raccolta dei fondi per Arquata del Tronto. Ce ne parla Enrico Marià. La giunta comunale di Novi Ligure guidata dal sindaco Rocchino Muliere ha voluto ringraziare tutti per il sostegno e i contributi fino ad ora raccolti per aiutare Arquata del Tronto e paesi delle zone limitrofe così duramente colpiti dal terremoto l'estate scorsa ed ha deciso di prolungare il termine della raccolta fino alla prossima Pasqua cioè metà aprile. La decisione è stata presa perché il freddo e le ultime copiose nevicate hanno aggravato la già difficile situazione delle zone. Inoltre le associazioni che collaborano con l'amministrazione hanno deciso di organizzare nuovi eventi per incrementare la cifra raccolta. L'assessore con delega al volontariato Stefano Gabriele ha sentito personalmente il sindaco di Arquata del Tronto per avvisarlo di questa proposta e del prolungamento della raccolta fondi. Quest'ultimo ha ringraziato tutti di cuore per il sostegno e ha detto che proprio a causa dei peggioramenti climatici e delle scosse che hanno seguito quelle tragiche del mese di agosto molti paesi sono totalmente da ricostruire ed ogni aiuto e sostegno è oro. Il Comune di Novi ringrazia anticipatamente tutti coloro che sosterranno questa importante causa fino a dopo Pasqua e le associazioni che con il loro impegno dimostrano grande sensibilità e solidarietà. Nella ricorrenza dei 40 anni di attività dell'Amag di Alessandria è stata ufficialmente presentata al Cento Grigi l'iniziativa relativa alla giornata mondiale dell'acqua. Amag Reti Idriche di Alessandria insieme all'amministrazione comunale farà da sostegno ad un torneo calcistico intitolato Acqua Gocce di Vita. Franco Capone Partirà domenica prossima il torneo di calcio denominato Trofeo Goccia per celebrare la giornata mondiale dell'acqua in programma il 22 marzo. Per questa data l'Amag che si occupa di reti idriche ha deciso di essere presente a questa manifestazione come ha affermato l'amministratore delegato Maurizio Vessan. L'acqua è effettivamente l'elemento che dà la vita quindi l'idrogeno è stato il primo elemento, il primo atomo al mondo in greco significa idorgen, generatore di acqua quindi l'acqua è il nostro bene principale, più prezioso bisogna risparmiarla e il 22 marzo c'è la giornata mondiale dell'acqua l'acqua che oggi è oggetto di conflitti 750 milioni di persone oggi al mondo soffrono la sete quindi noi con Cento Grigio, con questo benissimo centro organizziamo con circa questo messaggio con circa 6.000 ragazzi che vengono qua che frequentano questo centro sportivo e approfittiamo per veicolare questo messaggio A questa manifestazione sportiva è stato detto durante una conferenza stampa svolsosi al Cento Grigi di Via Bonardi al quartiere Cristo di Alessandria alla quale hanno preso parte il vice sindaco Giancarlo Cattaneo l'assessore comunale Giorgio Abonante assessore alle partecipazioni del comune di Alessandria ed il padrone di casa del Cento Grigi Gilberto Preda prenderanno parte 6.000 sportivi e giovani giocatori nati dal 2000 al 2010 che saranno accolti nella struttura del Cento Grigi Già questa domenica 29 ci saranno le prime premiazioni delle prime due categorie perché è cominciato il 4 dicembre e finirà alla fine di maggio con le ultime finali questo è stato il premio ad un lavoro che abbiamo voluto insistentemente portare alla fine e il fatto che Amag abbia accettato appunto questa nostra iniziativa è una goccia di vita è una goccia di vita sì e questo è anche diciamo un modo per comunicare Ancora sport appuntamento domenica in trasferta per i Grigi ad Arezzo quindi si parla di calcio tra poco nel servizio curato ancora da Franco Capone e poi la rubrica delle notizie utili grazie per averci seguito arrivederci alle prossime edizioni Grazie a tutti